Ciao ragazzi, è un nuovo video, questo è un video in collaborazione con Franci Avon ed è un video riguardante Avon, ovvero i 10 prodotti Avon che più amiamo, i nostri 10 preferiti è stata dura selezionarne 10 perché io amo quasi tutto quello che è Avon non lo dico perché sono presentatrice ma io anche prima di diventare presentatrice proprio Avon l'amavo e c'è un po' di cosina di make up, un po' per le unghie, un po' di cosina allora iniziamo con il make up, per quanto riguarda la base io amo e stra amo questo che è il primer di Avon, Avon Magics, questo qui ed è fantastico, veramente veramente fantastico ti lascia la pelle che sembra quasi velluto, fantastico, veramente veramente ottimo ma lo consiglio sempre, si presenta in questo modo qui così diventa trasparente e già così si sente la pelle liscia, 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 morbida, 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 morbida veramente fantastico, poi io mi sono innamorata di questo fondotinta qui che è il fondotinta in mousse, senti così, questo è il colore nude così è stra amo, io ho un sacco di fondotinta iniziati ma non riesco più ad usarli da quando ho usato questo è leggero, molto coprente ma allo stesso tempo leggero, veramente ottimo, 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 ottimo questo è la colorazione non l'ho neanche messo molto bene però comunque è esattamente della mia tonalità di pelle veramente fantastico, fantastico, fantastico poi per quanto riguarda le labbra adoro questo gloss dell'Avon è fantastico e ha anche un buonissimo odore questo è il pennellino, faccio lo sguaccino questo è il colore, veramente bellissimo poi passando agli occhi, questa palettina qui ve l'avevo già fatta vedere ve la rifaccio vedere perché sono un po' più innamoratissima di questa palettina di Avon un po' sporca però ed è questa palette qui con i sei ombretti, il marrone, il tortola due tonalità di oro, un beige scuro e un beige più chiaro tendente al rosa fantastici faccio vedere come appaiono questo è l'oscuro, questo è il dorato scuro il dorato chiaro, questo è il dorato scuro, questo è il color tortora e questo è l'oro oddio me ne sono persi oddio me ne sono persi oddio me ne sono persi ah ok, allora, questo poi questo questo e questo aspetta, il tortola e certo che se lo metto dietro l'oro e poi questo è il rosa cioè il beige rosato ce l'ho fatta ragazzi scusatemi come sempre io mi mi impattino se non mi impattino nemmeno una volta non sono contente poi questo maschera qui il super drama veramente fantastico divide bene le ciglia questo è accaduto e lo scovolino molto particolare molto 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 bello questo questo è la tonalità black e io ho anche la tonalità black brown quindi il marrone scuro poi per quanto riguarda le creme ho dovuto selezionarle e ho scelto questa qui nuova della linea e new clinical ed è quella per il contorno occhi ed è veramente ottima veramente veramente buona e per diciamo le zampe di gallina io purtroppo inizio ad averle e allora ho voluto subito prevenire e devo dire che ho già notato un gran miglioramento quindi fantastica poi per quanto riguarda le unghie ho dovuto soluzionare un colore di smalto anche se gli smalti avoli io li amo tutti e ho scelto questo qui della speed dry questo bellissimo blu è fantastico è il twilight blu ed è strepitoso guardate che bei riflessi stupendo poi ho scelto questa penna qui per le cuticole fatta così veramente fantastica sembra nuova e pensate che io l'ho già usata un sacco eppure vedete sembra quasi che io non ne abbia usata niente non so se riuscite a vedere veramente molto buona passiamo alla parte profumi anche qui ho dovuto selezionare è stato difficilissimo comunque ho selezionato come profumo il far away quello classico che io amo strano iperano qua si è ok ok è buonissimo è l'unico profumo dolce che mi piace questo qua e anche questo io lo uso molto spesso eppure guardate sembra quasi nuovo e poi questo spray qui che anche di questi io ne ho di tre ragazze e amo tutte e tre ho preso questo per diciamo fare da ambasciatore questo è il Miami Party ed ha un'approvazione freschissima veramente ottima 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 io amo gli spray profumati dell'amo come amo tutto il resto dell'amo quindi questi erano i miei prodotti i miei dieci prodottini preferiti avrei voluto metterci nei mille altri dai pennelli alle cipre alle perle al blush alle creme corpo alle creme viso tutto perché io amo tutto di Amon però questi sono i miei dieci preferiti del momento a parte questa che continua nel tempo ad essere la mia preferita e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto io mando un super 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 bacione a Francesca e grazie per aver fatto questo video in collaborazione con me per avermi fatto questa bellissima proposta sono stata contenta e niente noi ci sentiamo presto e a voi tutte ragazze un bacione e al prossimo video ciao ciao